Ciao a tutti, domenica 28 aprile con inizio alle ore 9 e mezzo, il giocatore di Subutio Terrano Marco Perotti sarà presente al torneo Città di Vitorchiano organizzato dalla società biterbese, dalla federazione italiana della sezione di Viterbo e quindi sarà a competere in questo torneo dal tasso tecnico molto elevato perché ci saranno giocatori provenienti da tutta Italia di qualità e quindi sarà una bella prova per il giocatore di Subutio Terrano Marco Perotti che ricordiamo Milita con la Lazio, non più con il Black Rose Room e quindi sarà sicuramente una bella partita, sarà sicuramente un torneo difficile per il nostro compaesano Perotti